Sono Andrea Croci, sono il responsabile dell'ufficio di rappresentanza di Hong Kong, del gruppo B-Bank e anche regional manager. Dall'ufficio di rappresentanza di Hong Kong seguiamo Hong Kong, il sud della Cina direttamente e tutto il sud est asiatico, oltre alla parte nord dell'Asia. Quello che facciamo è un ufficio di rappresentanza, una sede regionale, forniamo assistenza alla clientela, cerchiamo di accompagnare le aziende italiane interessate a questi mercati per qualunque tipo di attività. La nostra è un'assistenza a 360 gradi, andiamo da fare ricerche di mercato, ricerche informazioni, a un'attività più complessa che è quella di mettere in contatto la clientela italiana e le nostre aziende con operatori locali. Questo è un servizio che forniamo, come dicevo, ad ampio raggio, in qualunque settore merceologico e su tutta l'area del sud est asiatico, quindi mercati maturi come possono essere la Corea e il Giappone, dove magari il nostro aiuto necessita un po' meno per certi aspetti, alla Cina, che è il grande motore asiatico da qui ai prossimi 30 anni, l'ho già stato nel trentennio precedente, a paesi in via di enorme sviluppo come il Vietnam, l'Indonesia, la Malesia, le Filippine e arriviamo anche all'Australia, all'Oceania. Questo è quello che facciamo, quindi vi invito a contattarci via internet, email, telefonicamente, comunque a farci sapere se possiamo esservi utili.